Ciao, questo è il video haul sui saldi per quanto riguarda il beauty perché poi ne farò un altro per quanto riguarda l'abbigliamento perché ho acquistato diverse cosine e sono stata da Kiko e ho fatto un ordine online da Sephora da Kiko sono andata il primo giorno di saldi perché sono andata nel centro commerciale dove c'è anche Kiko perché mi interessavano dei negozi di abbigliamento che c'erano lì siccome avevano iniziato già il giorno prima nei negozi senza comunque mettere i cartelli fuori mi servivano delle cose e quindi sono andata e quando sono entrata da Kiko sinceramente non è che non ci fossero i saldi perché c'erano perché c'erano le edizioni limitate sia la Bad Girl che la Generation Next che la Modern Tribe tutte al 50% però c'erano esposte, non so se solo quelli erano rimasti però pochi pezzi di ogni collezione era veramente poco, solitamente il Kiko lo vado io a piccolo ma ha due tavoli grandi dove ci sono comunque tutti i prodotti in saldo c'era veramente poca roba, pochi pezzi per ogni collezione e parto dall'unica cosa che non era in saldo che ho preso che è uno dei nuovi smalti è il Power Pro 9 Lacquer e è il numero 19 non si vedrà mai però l'ho già utilizzato, l'ho utilizzato sia sulle mani che sui piedi adesso ce l'ho ancora sui piedi non mi fa impazzire l'odore perché permessa esageratamente di colla trovo che sia uno smalto un pochino pastoso, un pochino colloso ora non so se dipende solo da questo colore perché è l'unico che provo ha una buona durata però sinceramente non è che mi abbia fatto impazzire principalmente la stesura perché lo trovo veramente tanto colloso però non è male alla fine come smalto perché ha una buona durata però sui piedi diciamo che mi ha durato molto di più rispetto alle unghie ma alle unghie, certo perché sui piedi l'ho messo sulla pelle mi ha durato di più rispetto alle mani poi ho preso della Generation Next questa matita qui che è la numero 03 questa già l'ho utilizzata tanto è questo colore qui è una matita abbastanza resistente è un crystal eyeliner ma non mi ricordo se c'è scritto se sia waterproof o meno comunque con questo caldo ha resistito veramente tanto quindi un'ottima matita queste mi sembra vengano sui 2,90€ scontate o 3,50€ ora non mi ricordo ma mi sembra 2,90€ poi l'altra cosa che ho preso sempre al 50% la volevo da quando era uscito questo blush però mi ha sempre finito il prezzo al 50% mi sembra di averlo pagato sui 7,90€ ed è questo qui della Modern Tribe è il numero 03 Wild Move il blush in questione è questo qui che io trovo molto molto bello l'ho già utilizzato abbastanza io lo prelevo solitamente miscelato insieme e fino ad ora come tutti i blush di Kiko che ho acquistato fino ad ora quelli delle edizioni limitate sono quelli che mi soddisfano di più sia per la durata che per la scrivenza e non mi dispiace per niente questo 7,90€ ma sono 9 grammi di prodotto è un blush cotto ed è veramente bello anche come colore poi da Kiko basta perché non ha preso altro e ho fatto un ordine online da Sephora Sephora ha messo i prezzi da urlo mi sembra il primo di luglio sono usciti però non c'era un granché che mi interessasse poi verso il 4,5€ ha messo nei prezzi da urlo i prodotti della Too Faced e lì ho acquistato e ho preso il Landless Summer questo qui e il packaging è questo e la cialda è questa qui questo era scontato al 50% e al 50% veniva 12,90€ e ora non so se si nota ma il colore è questo qui non si vede molto da qui però io lo vedo insomma l'altro è il Beach Bunny e anche questo era scontato al 50% mi sembra sempre 12,90€ e il packaging è sempre uguale e la cialda è questa qui anche questo devo dire è molto bello questo è più dorato più diciamo una terra proprio per scaldare perché è molto comunque molto luminoso io ora ho preso la parte quella più dorata però è molto luminoso e l'ultima cosa che ho preso è la Primed & Poreless questa sinceramente non so di quanto era scontata ma mi ricordo che questa veniva a 15€ tondi e ormai vabbè la confezione la conoscete tutti ed è la cipria è questa qui con il piumino che ancora non ho iniziato e ero veramente curiosa di provarla visto che era 15€ perché no e come campioncini ho scelto il Day Real Push Up Liner era una confezione da mi sembra 2ml infatti è questo qui poi la Mood Mask di Sephora e poi ho preso questo di Algenis non so se si dice così Repairing Tent & Blur Mosturize questa qui una cosa invece che non c'entra niente con i saldi che ho preso prima ma non vi ho fatto vedere perché l'ho ricevuta da poco ho fatto un ordine su Machillalia insieme a Francesca Sissi & Frenchy e ho preso la Cocoa Blend mi piaceva e quindi l'ho voluta prendere è veramente bella ha dei colori molto molto particolari io ancora non l'ho utilizzata devo dire tanto perché quando mi è arrivata poi dopo io sono stavo utilizzando altre cose poi sono partita al mare quindi non me la sono portata dietro ma è veramente bella questi sono tutti i colori ora ve ne sboccio magari qualcuno questi sono i colori li mettiamo qui ed eccoli qui ha veramente una buonissima scrivenza sono leggermente polverosi ma non una cosa eccessiva e devo dire che si sfumano anche abbastanza bene non mi è dispiaciuta la prima palette di Zoeva che ho perché non avevo mai prese altre e non mi dispiace e dei saldi si vi ho fatto ah no ho fatto un ordine anche sul sito di Nabla della nuova collezione la Butterfly Valley si si dovrebbe chiamare così e ho preso quattro ombretti che sono questi quattro qui questo è Lilac Wonder che è quello che un pochino mi ha deluso perché devo fare molta pressione per far sì che il colore si veda eccolo qui poi questo non mi ricordo i nomi questo è Unrestricted che è veramente bello è questo colore qui questo l'ho già utilizzato e è un colore cangiante che ha tutti i riflessi eccolo sul rosso nonostante sembra un color oro suona il telefono ma lo lascio suonare poi l'altro che ho preso è Pegasus che è questo qui che tra l'altro è quello che ho anche su tutta la palpebra mobile e il colore ve lo faccio vedere di qua è questo qui è questo duo chrome molto molto bello è questo qui e l'altro l'ultimo che ho preso è Moonrise questo qui questo è un grigio ma non so se renderà comunque ha anche del viola all'interno ed è questo qui scusate ma mi hanno telefonato sul cellulare visto che riprendo con quello dicevo questo è Moonrise è un grigio di base e ha però tutti questi riflessi sul viola del viola all'interno da così si vede e questi con l'uscita della collezione erano tutti a 5 euro e 53 con le spese di spedizione scontate queste sono le ultime cose che ho acquistato questo era tutto e ci vediamo al prossimo video ciao ciao